Info e Malai notizie e caffè insieme a te oggi giovedì 19 ottobre amici una notizia di pochi minuti fa un neonato è stato abbandonato per strada arrestata la mamma la donna dopo il parto l'ha lasciato in strada è nato questa mattina prima dell'alba al sassari sua mamma 29 anni per nove mesi ha nascosto la gravidanza e oggi alle 5 e 30 partorito da sola nella sua camera della casa dove vie con i genitori da sola ha reciso il cordone ombelicale che la legava al figlioletto è uscita per strada mentre era ancora a buio ha lasciato il suo bambino nudo sull'asfalto sotto un'auto parcheggiata vicino all'abitazione poi rientrata in casa si è rimessa a letto la procura di sassari l'accusa di tentato omicidio al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione dei familiari della 29enne che hanno dichiarato ai carabinieri di essere totalmente all'oscuro della gravidanza della loro figlia amici è una notizia tragica nel 2023 al sud ancora famiglie patriarcali dove dove oggi invece c'è una realtà in continua evoluzione famiglie monoparentali famiglie ricostituite famiglie di fatto famiglie omosessuali vorrei un vostro commento sotto questa notizia l'appuntamento con l'informazione torna domani in forma live notizia e caffè insieme a te